Produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti con queste accuse. I carabinieri di Messina Sud hanno arrestato i fratelli Giovanni e Vincenzo Costantino. Sono volti noti alle forze dell'ordine, il primo a 46 anni, il secondo 52. Quando i carabinieri si sono presentati alla porta di Giovanni Costantino, quest'ultimo nel vano tentativo di disfarsi della sostanza che deteneva in casa, ha repentinamente aperto una finestra sul retro e ha lanciato all'esterno sei voluminose buste di plastica. I militari hanno assistito alla scena, hanno recuperato tutti i sacchetti che contenevano 500 grammi di marijuana e 100 di hashish. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute 200 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione domiciliare a carico di Vincenzo Costantino, la sua abitazione a poca distanza da quella del fratello, ha consentito di rinvenire 251 piante di marijuana. Determinante in questo caso il fiuto dei cani, che all'interno hanno scoperto anche 78 arbusti di piante di marijuana, divisi in due fasce e attaccati a un fil di ferro in posizione capovolta. Scoperti altri 173 arbusti di piante di marijuana. La somma di denaro e tutta la sostanza sono state poste sotto sequestro. I due fratelli sono stati tratti in arresto.